Dopo aver avviato Outlook, vai sul menu File e, dalla vista Informazioni Account, scegli Aggiungi account. Nel campo indicato, digita l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Apri il menu Opzioni avanzate e abilita il checkbox Consenti la configurazione manuale dell'account. Poi premi Connetti. Scegli Pop. Nel campo Server della posta in arrivo, inserisci l'indirizzo pop3s.pec.aruba.it. Controlla che il metodo di crittografia sia impostato su SSL. Abilita il checkbox Richiedi accesso con autenticazione password di protezione SPA e controlla che il numero della porta della posta in entrata sia la 995. Nel campo Server della posta in uscita, inserisci l'indirizzo smtps.pec.aruba.it. Controlla che il metodo di crittografia sia impostato su SSL. Abilita il checkbox Richiedi accesso con autenticazione password di protezione e controlla che il numero della porta della posta in uscita sia la 465. Vai su Avanti per continuare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, inseriscila nel campo apposito e clicca Connetti. Attendi qualche istante affinché il client rilevi le informazioni. Le informazioni sono state rilevate. Nel caso tu voglia configurare Outlook 2019 anche sul tuo telefono, abilita la spunta indicata. Clicca OK per ultimare la configurazione. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Ci siamo! La configurazione è stata completata.